De Camerone, seconda giornata, sesta novella. Madama Beritola, con due cavrioli sopra un'isola trovata, avendo due figlioli perduti, ne va in lunigiana. Quivi l'un dei figlioli, col signore di lei si pone e con la figliola di lui giace, è messo in prigione. Sicilia, ribellata al re Carlo, e il figliolo riconosciuto dalla madre, sposa la figliola del suo signore e il suo frate ritrova, e in grande stato ritornano. Avevan le donne parimente e giovani, riso molto dei casi d'Andreuccio dalla fiammetta narrati, quando Emilia, sentendo la novella finita, per comandamento della reina, così cominciò. Gravi cose noiose sono i movimenti vari della fortuna, dei quali, però che quante volte alcuna cosa si parla, tante è un destar delle nostre menti, le quali leggermente si addormentano nelle sue lusinghe, giudico mai l'increscer non doverla ascoltare e a felici e agli sventurati, in quanto li primi rende avvisati, e i secondi consola. E perciò, quantunque gran cosa e dette ne siano avanti, io intendo di raccontarvene una novella non meno vera che pietosa, la quale, ancora che lieto fine avesse, fu tanta e si lunga l'amaritudine che appena che io possa credere che mai da Letizia seguita si radolcisse. Carissime donne, voi dovete sapere che appresso la morte di Federigo II, imperatore, fu re di Sicilia coronato Manfredi, a poi il quale, in grandissimo stato, fu un gentile uomo di Napoli, chiamato Arrighetto Capece, il qual per moglie aveva una bella e gentil donna, similmente napoletana, chiamata Madama Beritola Caracciola, il quale Arrighetto, avendo il governo dell'isola nelle mani, sentendo che il re Carlo I aveva a Benevento vinto e ucciso Manfredi, e tutto il regno a lui si rivolgea, avendo poca sicurtà della corta fede dei siciliani, non volendo subito di venire del nemico del suo signore, di fuggire s'apparecchiava. Ma a questo da siciliani conosciuto, subitamente egli e molti altri amici e servitori del re Manfredi furono per prigioni dati al re Carlo, e la possessione dell'isola appresso. Madama Beritola, in tanto mutamento di cose, non sapendo che da Arrighetto si fosse, e sempre di quello che era avvenuto temendo, per tema di vergogna, ogni sua cosa lasciata, con un suo figliolo, detta forse d'otto anni, chiamato Giuffredi, e gravida e povera, montata sopra una barchetta, se ne fuggì all'Ipari. E qui vi partorì un altro figliolo maschio, il quale nominò lo Scacciato, e prese una baglia, con tutti sopra un legnetto montò per tornarsene a Napoli, a suoi parenti. Ma altrimenti avvenne che il suo avviso, perciò che per forza di vento, il legno che a Napoli andare dovea, fu trasportato all'isola di Ponzo, dove, entrati in un picciol seno di mare, cominciarono a tender tempo al loro viaggio. Madame Veritola, come gli altri smontata in sull'isola, e sopra quello un luogo solitario e rimoto trovato, qui vi addolersi del suo arrighetto, si mise tutta sola. E questa maniera, ciascun giorno tenendo, avvenne che, essendo ella al suo doler si occupata, senza che alcuno, o marinaro o altri, se ne accorgesse, una galea di corsari sopravvenne, la quale tutti a man salva gli prese, e andò via. Madame Veritola, finito il suo diurno lamento, tornata al lito per rivedere i figuoli, come usata era di fare, niente una persona vi trovò. Di che prima si maravigliò, e poi, subitamente di quello che avvenuto era sospettando, gli occhi in fra il mar sospinse, e vide la galea, non molto ancora allungata, dietro tirarsi il legnetto. Per la qualcosa ottimamente coniobbe, siccome il marito, aver perduto i figlioli, e povera, e sola, e abbandonata, senza sapere dove mai alcuno doversene ritrovare, qui vi vedendosi, tramortita il marito e figlioli, chiamando, cadde insullito. Qui vi non era chi con acqua fredda, o con altro argomento, le smarrite forze rivocasse, perché a bellagio poterono gli spiriti andar vagando dove loro piacque. Ma poiché nel misero corpo le partite forze, insieme con le lacrime e col pianto, tornate furono, lungamente chiamò i figlioli, e molto per ogni caverna li andò cercando. Ma poiché la sua fatica conobbe vana, e vide la notte sopravenire, sperando e non sapiendo che, di se medesimo alquanto, divenne sollecita, e dal lito partitasi, in quella caverna dove di pianere e di doler si era usa, si ritornò. E poiché la notte con molta paura e con dolore inestimabile fu passata, e il di nuovo venuto, è già l'ora della terza avvalicata, e sa che la sera davanti il senato non avea, la fame constretta a pascer derbe si diede, e pasciuta come poté, piangendo, a vari pensieri della sua futura vita si diede, nei quali, mentre ella dimorava, vide venire una cavriola, entrare ivi vicino in una caverna, e dopo alquanto uscirne e per lo bosco andarsene. Perché ella levata, sì, là entrò d'onde uscita era la cavriola, e videvi due cavrioli, forse il di medesimo nati, nei quali le parevano la più dolce cosa del mondo e la più vezzosa, e non essendole sia ancora del nuovo parto rasciutto il latte del petto, quegli teneramente prese e al petto gli si pose, nei quali, non rifiutando il servigio, così lei poppavano come la madre avrebbe refatto, ed allora innanzi dalla madre a lei niente di stinzione fecero. Perché, parendo la gentildonna avere nel diserto luogo alcuna compagnia trovata, l'erbe pascendo e bevendo l'acqua, e tante volte piagnendo quante del marito dei figlioli e della sua preterita vita si ricordava, quivi e a vivere e a morire si era disposta, non meno dimestica della cabriola divenuta che dei figlioli. E così dimorando la gentildonna divenuta fiera, avvenne, dopo più mesi, che per fortuna similmente qui vi arrivò un legnetto di pisani, dove ella prima era arrivata, e più giorni vi dimorò. era sopra quel legno un gentile uomo chiamato Currado dei Marchesi Malespini, con una sua donna valorosa e santa, e venivano di pellegrinaggio da tutti i santi luoghi li quali nel regno di Puglia sono, e a casa loro se ne tornavano, il quale, per passare malinconia, insieme con la sua donna e con alcuni con i suoi familiari e con i suoi cani, un dì andare fra l'isola si mise. E non guarì lontano al luogo dove era madama Beritola, cominciarono i cani di Currado a seguire i due cavrioli, li quali già grandicelli pascendo andavano, li quali cavrioli da cani cacciati in nulla altra parte fuggirono che alla caverna dove era madama Beritola, la quale questo vedendo levata in pie e preso un bastone le cani mandò indietro e qui di Currado e la sua donna che i loro cani seguitavano sopravenuti vedendo Costei che bruna e magra e pelosa divenuta era si maravigliarono e la molto più di loro ma poi che a prieghi di lei ebbe Currado i suoi cani tirati indietro dopo molti prieghi la piegarono a dire chi ella fosse e che qui vi facesse la quale pienamente ogni sua condizione e ogni suo accidente e il suo fiero proponimento loro aperse il che udendo Currado che molto bene a reghetto capece conosciuto avea di compassion pianse e con parole assai si ingegnò di rimuoverla da proponimento si fiero offerendole di rimanarla a casa sua o di secotenerla in quell'onore che sua sorella e stesse tanto che Dio più lieta fortuna le mandasse innanzi alle quali i proferte non piegandosi la donna Currado con lei lasciò la moglie e le disse che da mangiare qui vi facesse venire e lei che tutta era stracciata da alcuna delle sue robe rivestisse e del tutto facesse che seco la nemenasse la gentildonna con lei rimasa avendo prima molto con madama beritola pianto dei suoi infortuni fatti venire vestimenti e vivande con la maggior fatica del mondo a prendergli e a mangiarla condusse e ultimamente dopo molti prieghi affermando ella di mai non voler andare ove conosciuta fosse l'andusse a doversene seco andare l'unigiana insieme ecco due cavrioli e con la cavriola la quale in quel mezzotempo era tornata e non senza gran meraviglia della gentildonna l'aveva fatta grandissima festa e così venuto il buon tempo madama beritola con currado e con la sua donna sopra il loro legno montò e con loro insieme la cavriola e i due cavrioli da quali non sapiendosi per tutti il suo nome e la fu cavriola denominata e con buon vento tosto infino nella foce della magra andarono dove smontati alle loro castella se ne salirono qui quivi appresso la donna di currado madama beritola in abito vedovile come una sua damigella onesta e umile obbediente stette sempre a suoi cavrioli avendo amore e facendogli nutricare i corsari i corsari li quali avevano a ponzo preso il legno sopra il quale madama beritola venuta era lei lasciata siccome da loro non veduta con tutta l'altra gente a genova mandarono e quivi tra padroni della galea divisa la preda toccò per avventura tra le altre cose in sorte un messer guasparrindoria la balia di madama beritola e i due fanciulli con lei il quale lei co fanciulli insieme a casa sua ne mandò per tenegli a guisa di servi nei servigi della casa la balia dolente oltremodo della perdita della sua donna e della misera fortuna nella quale sei due fanciulli caduti vedea lungamente pianse ma poi che vide le lagrime niente giovare e se esser serva con loro insieme ancora che povera femmina fosse pure la savia e avveduta perché prima come potè il meglio riconfortatasi e appresso riguardando dove erano pervenuti si affisò che se i due fanciulli conosciuti fossero per avventura potrebbero di leggere impedimento ricevere e oltre a questo sperando che quando che sia si potrebbe mutare la fortuna e essi potrebbero se vivi fossero nel perduto stato tornare pensò di non palesare alcuna persona a chi fossero se tempo di ciò non vedesse e a tutti diceva che di ciò domandata l'avessero che i suoi figlioli erano e il maggiore non Giuffredi ma Giannotto di Procida nominava al minore non curò di butar nome e con somma diligenzia mostrò a Giuffredi perché il nome cambiato gli avea e a qual pericolo egli potesse essere se conosciuto fosse e questo non una volta ma molto e molto spesso gli ricordava da qualcosa il fanciullo che intendente era secondo l'amaestramento della savia baglia ottimamente faceva stettero dunque e malvestiti e peggio calzati a ogni vil servigio adoperati con la baglia insieme pazientemente più anni i due garzoni in casa messer Guasparino ma Giannotto già d'età di sedici anni avendo più animo che a servo non si apparteneva sdegnando la viltà della servil condizione salito sopra galee che in Alessandria andavano dal servigio di messer Guasparino si partì e in più parti andò in niente potendosi avanzare alla fine forse dopo tre o quattro anni appresso la partita fatta da messer Guasparino essendo bel giovane e grande della persona divenuto e avendo sentito il padre di lui il quale morto credeva che fosse essere ancora vivo ma in prigione in captività per l'orecarlo guardato quasi della fortuna disperato vagabundo andando pervenne l'Unegiana e qui viperventura con Currado Malaspina si mise per familiare lui assai acconciamente e a grado servendo e come che radevolte la sua madre la quale con la donna di Currado era vedesse né una volta la conobbe né ella lui tanto la età l'uno e l'altro da quello che esser soleano quando ultimamente si videro gli avea trasformati essendo dunque Giannotto al servigio di Currado avvenne che una figliola di Currado il cui nome era Spina rimasa vedova ad uno Niccolò da Grignano alla casa del padre tornò la quale essendo assai bella e piacevole e giovane di poco più di sedici anni per ventura pose gli occhi addosso a Giannotto e egli a lei e ferventissimamente l'uno dell'altro si innamorò il quale amore non fu lungamente senza effetto e più mesi durò avanti che di ciò né una persona s'accorgesse per la qualcosa essi troppo assicurati cominciarono a tenere maniera men discreta che a così fatte cose non si richiedea e andando un giorno per un bosco bello e folto d'alberi la giovane insieme con Giannotto lasciata tutta l'altra compagnia entrarono innanzi e parendo loro molta di via aver gli altri avanzati in un luogo dilettevole e pien d'erbe di fiori e d'alberi chiuso ripostisi a prendere amoroso piacere l'un dell'altro incominciarono e come che lungo spazio stati già fossero insieme avendo il gran diletto fatto lo loro parere molto breve in ciò dalla madre della giovane prima e appresso da currado soprapresi furono il quale doloroso oltremodo questo vedendo senza alcuna cosa a dire del perché a Menduni gli fece pigliare a tre suoi servitori e a un suo castello legati menagliene e dire di cruccio fremendo andava disposto di fargli vituperosamente morire la madre della giovane quantunque molto turbata fosse e degna reputasse la figliola per il suo fallo d'ogni crudel penitenza avendo per alcuna parola di currado compreso qual fosse l'animo suo verso innocenti non potendo ciò comportare avacciandosi sopraggiunse l'adirato marito e cominciò a pregare che gli dovesse piacere di non correre furiosamente a volere nella sua vecchiezza della figliola di venire micidiale e abbruttarsi le mani del sangue d'un suo fante e che gli altra maniera trovasse a soddisfare all'ira sua siccome di fargli imprigionare e in prigione stentare e piangere il peccato commesso e tanto e queste e molte altre parole gli andò dicendo la santa donna che essa da uccidergli l'animo suo rivolse e comandò che in diversi luoghi ciascun di loro imprigionato fosse e quindi guardati bene e con poco cibo e con molto disagio servati e infino a tanto che esso altro deliberasse di loro e così fu fatto quale la vita loro in captività e in continue lagrime e in più lunghi digiuni che loro non sarien bisognati si fosse a ciascuno se può pensare stando adunque Giannotto e la spina in vita così dolente essendovi già uno anno senza ricordarsi currato di loro dimorati avvenne che il re Piero d'Araona per trattato di Messer Gian di Procida l'isola di Sicilia ribellò e tolse al re Carlo di che currado come Ghibellino fece gran festa la quale Giannotto sentendo da alcuno di quegli che a guardia l'aveano gittò un gran sospiro e disse ai lasso me che passati sono ormai quattordici anni che io sono andato tapinando per lo mondo né un'altra cosa aspettando che questa la quale ora che è venuta è a ciò che io mai da ver ben più non speri ma trovato in prigione della quale mai sia non morto uscir non spero e come disse il prigioniere che monta a te quello che i grandissimi resi facciano che avevi tu a fare in Sicilia a cui Giannotto disse e il pare che il cuore mi si schianti ricordandomi di ciò che già mio padre vebbe a fare il quale ancora che piccol fanciullo fossi quando me ne fuggì pur mi ricorda che io nel vidi signore vivendo il re Manfredi seguì il prigioniere a chi fu tuo padre il mio padre disse Giannotto posso io mai sicuramente manifestare poi nel pericolo mi veggio il quale io temevo scoprendolo egli fu chiamato e ancora se il vive al righetto capece e io non Giannotto ma Giuffredi ho nome e non dubito punto se io di qui fossi fuori che tornando in Sicilia io non v'avessi ancora grandissimo luogo il valente uomo senza più avanti andare come prima ebbe tempo tutto questo raccontò a Currado il che Currado udendo quantunque al prigioniere mostrasse di non curarsene andatosene a madama Beritola piacevolmente la domandò se alcuno figliolo avesse dal righetto avuto che Giuffredi avesse nome la donna piagnendo rispose che se il maggior dei suoi due che avuti avea fosse vivo così si chiamerebbe e sarebbe d'età di ventidue anni questo udendo Currado avvisò lui dovere esser adesso e caddergli nell'animo se così fosse che egli a una ora poteva una gran misericordia fare e la sua vergogna è quella della figliola torvia dandola per moglie a costui e perciò fattosi segretamente Giannotto venire partitamente di ogni sua passata vita l'esaminò e trovando per assai manifesti indizi lui veramente esser Giuffredi figliolo dal righetto capece gli disse Giannotto tu sai quanta e quale sia l'angiuria la quale tu m'hai fatta nella mia propria figliola laddove trattandoti io bene amichevolmente secondo che servidor si deve fare tu dovevi il mio onore e delle mie cose sempre cercare e operare e molti sarebbero stati quegli ai quali se tu quello avessi fatto che a me facesti che vituperosamente t'avrebbero fatto morire e che la mia pietà non sofferse ora poiché così è come tu mi dì che tu figliol sei di gentile uomo e di gentil donna io voglio le tue angosce quando tu medesimo vogli porre fine e trarti della miseria e della captività nella quale tu dimori e a una ora il tuo onore e il mio nel suo debito luogo riducere come tu sai la spina la quale tu con amorosa avvenia che sconvenevole a te e a lei amistà prendesti e vedova e la sua dota è grande e buona quali siano i suoi costumi e il padre e la madre di lei tu il sai del tuo presente stato niente dico perché quando tu vogli io sono disposto dove ella disonestamente amica ti fu che ella onestamente tua moglie divenga e che in guisa di mio figliolo qui con esso meco e con lei quanto ti piacerà di mori aveva la prigione macerate le carni di giannotto ma il generoso animo dalla sua origine tratto non aveva ella in cosa alcuna diminuito né ancora l'ontero amore il quale egli alla sua donna portava e quantunque egli ferventemente desiderasse quello che currado gli offereva e se vedesse nelle sue forze e niente una parte piegò quello che la grandezza dell'animo suo gli mostrava di dover dire e rispose currado né cupidità di signoria né desiderio di denari né altra cagione alcuna mi fece mai alla tua vita nelle tue cose insidie come traditor porre amai tua figliola e amo e amerò sempre perciò che degna la reputa del mio amore e se io seco fui men che onestamente secondo l'opinion dei meccanici quel peccato commisi il qual sempre seco tiene la giovanezza congiunto e che se via si volesse torre converrebbe che via si togliesse la giovanezza e il quale se i vecchi si volessero ricordare ed essere stati giovani e gli altrui difetti con li loro misurare e li loro con gli altrui non sarei grave come tu e molti altri fanno e come amico non come nemico il commisi quello che tu offri di voler fare sempre il desiderai e se io avessi creduto che conceduto mi dovesse esser sudo lungo tempo che domandato l'avrei e tanto mi sarà ora più caro quanto di ciò la speranza è minore se tu non hai quello animo che le tue parole dimostrano non mi pascere di vana speranza fammi ritornare alla prigione e quivi quanto ti piace mi fa affliggere che tanto quanto e amerò la spina tanto sempre per amor di lei amerò te che che tu mi facci e avrò t'inreverenza currado avendo costui udito si maravigliò e di grande animo il tenne e il suo amore fervente reputò e più ne lebbe caro e perciò levato si in pie l'abbracciò e baciò e senza dar più indugio alla cosa comandò che quivi chetamente fosse semenata la spina e lei era nella prigione magra e palida divenuta e debole e quasi un'altra femmina che esser non soleva parea è così già noto un altro uomo i quali nella presenza di currado di pari consentimento contrassero le sponsalizie secondo la nostra usanza e poi che più giorni senza sentirsi da alcuna persona di ciò che fatto era alcuna cosa gli ebbe di tutto ciò che bisogno loro e di piacere era fatti adagiare parendogli tempo di farne le loro madri liete chiamate la sua donna e la cavriola così verso loro disse che direste voi madonna se vi facesse il vostro figliolo maggior riavere essendo egli marito d'una delle mie figliole a cui la cavriola rispose io non vi potrei di ciò altro dire se non che se io vi potessi più esser tenuta che io non sono tanto più vi sarei quanto voi più cara cosa che non sono io medesima a me mi rendereste e rendendomela in quella guisa che voi dite alquanto in me la mia perduta speranza rivocareste e lagrimando si tacque allora disse currado alla sua donna e a te che ne parrebbe donna se io così fatto genero ti donassi a cui la donna rispose non che un di loro che gentili uomini sono ma un ribaldo quando a voi piacesse mi piacerebbe allora disse currado io spero in fra pochi di farvi di ciò liete femmina e veggendo già nella prima forma i due giovani ritornati onorevolmente vestitigli domandò giufredi che te sarebbe caro sopra l'allegrezza la qual tu hai se tu qui la tua madre vedessi a cui giufredi rispose egli non mi si lascia credere che i dolori dei suoi sventurati accidenti l'abbiamo tanto lasciata viva ma se pur fosse sommamente mi seria caro siccome colui che ancora per lo suo consiglio mi crederei gran parte del mio stato ricoverare in Sicilia allora currado l'una e l'altra donna qui vi fece venire e le fecerò menduna e maravigliosa festa alla nuova sposa non poco maravigliandosi quale ispirazione potesse essere stata che currado avesse a tanta benignità recato che giannotto con lei avesse congiunto al quale madama beritola per le parole da currado udite cominciò a riguardare ed occulta virtù desta in lei alcuna ramemorazione depo i rilineamenti del viso del suo figliolo senza aspettare altro dimostramento con le braccia aperte gli corse al collo nella soprabbondante pietà e allegrezza materna le permisero di potere alcuna parola dire anzi sì ogni virtù sensitiva le chiusero che quasi morta nelle braccia del figliolo ricadde il quale quantunque molto si maravigliasse ricordandosi d'averla molte volte avanti in quel castel medesimo veduta e mai non riconosciutala pur non di meno conobbe incontanente l'odor materno e se medesimo della sua preterita trascutaggine biasimando lei nelle braccia ricevuta lagrimando teneramente baciò ma poiché madama beritola pietosamente dalla donna di currado e dalla spina aiutata e con acqua pietà mille volte o più il baciò e egli lei reverentemente molto la vide e ricevette ma poiché le accoglienze oneste e liete furono interate tre o quattro volte non senza gran letizia e piacere dei circostanti e l'uno all'altro ebbe ogni suo accidente narrato avendo già currado a suoi amici significato con gran piacere di tutti il nuovo parentato fatto da lui e ordinando una bella e magnifica festa gli disse Giuffredi currado voi avete fatto me dietro di molte cose e lungamente avete onorato mia madre ora a ciò che niena parte in quello che per voi si possa ci resti a far vi priego che voi mia madre la mia festa e me facciate alieti della presenza di mio fratello il quale in forma di servo messer Guasparrindoria tiene in casa il quale come io vi dissi già e lui e me prese in corso e appresso che voi alcuna persona mandiate in Sicilia il quale pienamente si informi delle condizioni dello stato del paese e mettersi a sentire quello che è dal righetto mio padre se gli è vivo o morto e se è vivo in che stato e d'ogni cosa pienamente informato a noi ritorni piacque a currado la domanda di Giuffredi e senza alcuno indugio discretissime persone mandò e a Genova e in Sicilia colui che a Genova andò trovato messer Guasparrino da parte di currado diligentemente il pregò che lo scacciato e la sua maglia gli dovesse mandare ordinatamente narrandogli ciò che per currado era stato fatto verso Giuffredi e verso la madre messer Guasparrin si maravigliò forte questo udendo e disse egli è vero che io farei per currado ogni cosa che io potessi che gli piacesse e ho bene in casa avuti già sono quattordici anni il garzon che tu dimandi è una sua madre li quali io gli manderò volentieri ma diragli da mia parte che si guardi di non aver troppo creduto o di non creder alle favole di Giannotto il quale di che oggi si fa chiamare Giuffredi perciò che egli è troppo più malvagio che egli non s'avvisa e così detto fatto onorare il valente uomo si fece in segreto chiamarla Valia e cautamente la essaminò di questo fatto la quale avendo udito la ribellione di Sicilia e sentendo Arrighetto essere vivo cacciata via la paura che già avuta avea ordinatamente ogni cosa gli disse e le cagioni gli mostrò perché quella maniera che fatto aveva tenuta avesse Messer Guasparrin veggendo ridetti della Valia con quegli dell'ambasciador di Currado ottimamente convenirsi cominciò a dar fede alle parole e per un modo e per uno altro siccome uomo che astutissimo era fatta inquisizione di quest'opera e più ognora trovando cose che più fede gli davano al fatto vergognandosi del vil trattamento fatto del garzone in ammenda di ciò avendo una sua bella figlioletta d'età d'undici anni conoscendo egli chi Arrighetto era stato e fosse con una gran dote gli die per moglie e dopo una gran festa di ciò fatta col garzone e con la figliola e con l'ambasciador di Currado e con la Valia montato sopra una galeotta bene armata se ne venne a Lerici dove ricevuto da Currado con tutta la sua brigata nandò un castel di Currado non molto di Guivi lontano dove la festa grande era apparecchiata quale la festa della madre fosse rivedendo il suo figliolo qual quella dei due fratelli qual quella di tutti e tre alla fedelbaglia qual quella di tutti fatta a Messer Guasparrino e alla sua figliola e di lui a tutti e di tutti insieme con Currado e con la sua donna e con figlioli e con suoi amici e non si potrebbe con parole spiegare e perciò a voi donne la lascio a immaginare alla quale a ciò che compiuta fosse volle domenedio abbondantissimo donatore quando comincia sopraggiungere le liete novelle della vita e del buono stato dal righetto capece perciò che essendo la festa grande e i convitati le donne e gli uomini alle tavole ancora la prima vivanda sopraggiunse colui il quale andato era in Sicilia e tra le altre cose raccontò dal righetto che essendo egli in captività per lo re Carlo guardato quando il rumore contra il re si levò nella terra il popolo a furore corse alla prigione e uccise le guardie due ne avevano tratto fuori e siccome capitale nemico del re Carlo l'avevano fatto loro capitano e seguitolo a cacciare e a uccidere i franceschi per la qualcosa egli sommamente era venuto nella grazia del re Petro il quale lui in tutti i suoi beni e in ogni suo onore rimesso aveva la onde egli era in grande e buono stato aggiungendo che egli aveva lui con sommo onore ricevuto e inestimabile festa aveva fatta della sua donna del figliolo dei quali mai dopo la presura sua niente aveva saputo e oltre a ciò mandava per loro una saettia con alquanti gentili uomini li quali appresso venieno costui fu con grande allegrezza e festa ricevuto e ascoltato e prestamente currado con alquanti dei suoi amici incontro si fecero a gentili uomini che per madama beritola e per giuffredi venieno e loro lietamente ricevette e al suo convito il quale ancora al mezzo non era gli introdusse qui vi è la donna e giuffredi e oltre a questi tutti gli altri con tanta letizia gli videro che mai simile non fu udita essi avanti che a mangiarsi ponessero da parte dal righetto e salutarono e ringraziarono quanto il meglio sepero e più poterono currado e la sua donna dell'onor fatto e alla donna di lui e al figliolo e al righetto e ogni cosa che per lui si potesse offersero al loro piacere quindi a messer Guasparrin rivolti il cui beneficio era inoppinato dissero se esser certissimi che qualora ciò che per lui verso lo scacciato stato era fatto dal righetto si sapesse che grazie a similianti e maggiori rendute sarebbero a presso questo dietissimamente nella festa delle due nuove spose e con i novelli sposi mangiarono ne solo quel dì fece currado festa al genero e agli altri suoi e parenti e amici ma molti altri la quale poi che riposata fu parendo a madama Beritola e a Giuffredi e agli altri di doversi partire con molte lagrime da currado e dalla sua donna e da messer Guasparrino sopra la saettia montati secola spina menandone si partirono e avendo prospero vento tosto in Sicilia pervennero dove con tanta festa da arreghetto tutti parimente e figlioli e le donne furono in Palermo ricevuti che dir non si potrebbe giammai dove poi in molto tempo si crede che essi tutti felicemente vivessero e come conoscenti del ricevuto beneficio amici di Messer Domene Dio di Messer famiglia e si si disse Grazie.